da questo punto vado fuori vado a completare qualche missione pure io e se sarò live dura un'altra mezz'oretta non di più domani si lavora ti servo un altro un altro inno coso sassone si l'inno del gran ducato del baden certo è proprio la mia la prima cosa che so nella mia vita cesare infatti ho rifiutato così hanno rimborsato i point chi non sai l'inno del gran ducato del baden ma chi è che non lo sa nella vita poi voglio vedere se lo sa pure lui quindi qualsiasi cosa mi posso contare secondo me non lo sanno neanche chi ci abita nel gran ducato sicuramente forse qualche patriottico sei lontano da casa si sto portando il cibo alla nonna e la mamma mi ha detto di stare attento a tutto quindi sei tra i boschi e lupacciotti ho capito lontano sto tornando tutto svalor cammina sto vicino a xorna ok la città quella fanno si no una regione più avanti rispetto a rosa turul valos varov poi c'è rosa da 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 quella sopra e poi c'è xorna questo ha finito il cibo e una cosa buona che ne ho inserito che prima non c'era è la legge lo porto un po di cibo nel non ce l'hai dietro per ripristinare si però poco io lo so se sa che adesso il gianducato del bade non esiste è una regione della germania io che pensavo che ci fosse ancora la prussia vediamo se posso recuperare un po' di risorse invece con la scusa che ormai sono in giro per la mappa sono stato a raccogliere un po' di cavalli 5.000 bronzi per prenderli si io però fare gli ordini di requisizione ah ok requisizione con gator non va il gator so 30.000 si è il suo cazzo ho trovato uno schema verde proprio si spregano quindi hai detto che sei vicino a orca? eh no ora sto tornando a turva rossa e perchè non ti vedo solo così tornato? dovevi vederti su che linea sei? io sono praticamente di fronte a Kovac hai presente in alto ci stanno a quanti MS vai? sì sotto dc dovrebbe essere scritto line linea 1 ah allora stiamo nella stessa linea ho capito cavolo ci stanno i rebelli quelli là aggressivi eh però se non gliela faccio sto senza che quelle unità sono morte tutte eh 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 capita io ammazzo qualche ribelle nel frattempo hai fatto richiesta alla gilda? ancora non ho avuto tempo anche perché poi mi devi mandare anche il nome della gilda e... così la... la vedi qua appena mi... la vedi appena mi vedi fuori dalla mappa ah sì sì ok nel tuo loro... sì sì attacca a will! attacca! ribelli andati ho trovato un po' di cibo se riesco a raggiungere la prossima con Quarers sì sì vabbè ma a me è già piaciuto quando all'inizio quando ci giocavo avevo iniziato tempo fa ah quindi hai rimesso tutto bene prima sì perché nell'altro profilo io ho dovuto fare il personaggio nuovo per giocare con voi vabbè non ero chissà che cosa però ero un livello 50 già abbondante mentre qui ho dovuto ricominciare da zero capito avevo un bordello di risorse avevo un sacco di cose solo a solito mi mancavano gli schemi anche sì che non avevo mai valutato il fatto di di utilizzare un'altra classe perché comunque se prendevo gli spada c ragazzi comunque ho notato dalla live mentre stai facendo la field tu non puoi andare con l'archetto tuo incontra uno che c'ha la labarda cioè è ovvio che ti fai il culo tu ti devi portare prima le unità le mandi incontro a quello con la labarda poi piano piano lo distruggi quello con la labarda perché sei impegnato a trauccidare le tue unità è ovvio che tu riesci a farci qualche tanto sì ma io sono abituato a giocare a COD quindi vado alla Rambo Pito ehm ma non puoi farlo se vuoi evitare di morire sì sì ma infatti dovrei prenderci meglio la mano perché comunque come dicevo oggi anche a Samasa è tutta una questione di di strategia poi tu sai com'è quando vedi il filo della morte vicino no? un po' ti ci fianti addosso te ne freghi te sei un buon spadaccino quindi per me darcere infatti io faccio molto danno dalla distanza infatti ne porto di kill però giustamente dovrei sì ma nell'esempio sei utile solo che ti vengono addosso sei sfragassato ti sfragassano cioè almeno che non fai come i moschettieri che sparano e scappano sparano e scappano che proprio vorrei ucciderli proprio no ma io ho avuto prima un tizio contro moschettiere proprio è una classe OP completamente OP completamente non vuoi competere io penso che nelle prossime te lo becchi bene e lo uccidi ma se cominciano a fare gli infami ti tocca piargli la pistola e sparai proprio non vedo altro modo non vedo altro modo gliela togli allora sei riuscito a rientrare in città? sì ci sono ci sono se vuoi rientra che facciamo una save tempo che recupero un po' di cibo qua così portiamo un po' di contenuto sì sì perché altrimenti diventa noioso ah mi dimenticavo si dice siege non sage perché sennò in gilda mia mi linciano ah sì? facciamo il siege allora non ti ho chiesto generi preferiti in particolare a parte Blackwaste il gioco che ti ha preso Bannerlord come si chiama Stellaris ah quindi qualche strategico lo giochi pure Stellaris è fantastico poi ho giocato un po' total war ma non ci ho fatto più di tanto poi che ne so Age of Empires Stronghold l'hai provato? eh? Stronghold l'hai provato? volevo provarlo mi intrigava ma ancora lo devo comprare sto più pensando ai soldi per comprarmi il passe di sta stagione ho capito io invece ultimamente proprio sto in grande vista che vorrei prendere la serie di The Witcher e giocarmela dall'inizio alla fine quindi partire dal primo è total overdose praticamente però è lungo è lungo da portare in live praticamente ci giochi un anno poi vorremmo dare Rim Award non so se lo conosci e con la mod zombie zombie land così da iniziare quell'avventura lì l'idea è anche quella siccome lì vai trovando vari rifugiati nel gioco da poter rinominare magari fare una bella live che gioco? Rim Award ah no io ho giocato a The Aftermath ah si bello pure io ho provato una beta di quel gioco vado a GTA giochi così sull'Xbox li gioco più che altro questi qua di strategia di gioco sul PC perchè non ci stanno su Xbox certo già sei in battaglia te? no sto aspettando te si si un attimo che vado dal Billyman lì mi hanno appena sfidato a duello massacrato a te sei stato massacrato? no lui non l'ho massacrato ho fatto bene quando prendo la ricombenza giornaliera ok se vuoi puoi avviare il Kandao comunque quasi livello 70 eh e te fai paura stai facendo field battle? no sage pitch ah no ho fatto field scusa infatti vediamo no dopo ti tocca cambiare il testo della live vabbè non è un problema forse quello è il problema ora te mi devi togliere però la culo mi metti la curiosità o ti chiami Francesco Armando no mi chiamo Francesco Armando Maradona no dai mi chiamo solo Francesco Francesco ok Armando per scherzare dai su Armando Napoli Rolex dai ok fai bene ok no io sto andando per capire che magari puoi perdo tempo a chiamarti Armando perché ti chiamo ti ho chiamato più volte Armando io Francesco Francesco l'amore anche Armando è uguale cioè basta vabbè come il pupone ti chiamo vabbè come il pupone ti chiamo madonna io sto gioco non riesco a capire perché i tempi così lunghi eh dipende uno dalla connessione mia e due dai server ma no io lo vedo più che altro è per carenza di gente che ci sta giocando con questo server ovviamente chiamo Francesco come l'arciduca Francesco Ferdinando spero che non farei quella fine assassinato eh purtroppo vediamo quando gente ci sta con sto gioco è quello che ha fatto Scott alla prima guerra mondiale no? a Sarajevo ma mica era per colpa di lui lui è la vittima eh no non è che la fa eh vabbè anche per colpa sua nel senso è stato è stato un altro è stato un altro come si dice caso sbelli è stato il caso a morte è stato il caso sbelli e anche la nazionalità del suo assassino scusami se ti interromo sto guardando su steam database che scrivono che dicono eh 85mila persone stanno giocando a sto gioco cioè so poche ah non lo chiedere a me io ci gioco e basta poi se quanta gente ci gioca non è affermi io si perchè aspetta aspetta 5000 persone in questo server ci sono altri 5 server no no io non sono sono direttamente sulla pagina del gioco non sul server ah allora boh so poche spero di sbagliarmi però ah vabbè 5000 so poco domenica sera magari oggi pomeriggio ce ne erano 20 30mila perchè questo è il server ah vabbè no allora dipende dai fusi orari dipenderà che cacchio ne so vabbè pure ovviamente ma alla fine basta che mi ci diverto io poi se ovviamente per ogni partita ti bastano avere 20 persone massimo 40 persone quindi tutto sto problema di gente abbiamo giusto il tempo di fare questo poi mi aspetta un ciclo lungo di ninna io domani ho scuola che palle eh io mi devo alzare alle 6 e mezza perchè ho il lavoro no io ho già alzato alle 8 però mi sono alzato alle 7 per scuola per scuola ma sei in telematico o di presenza telematico ti devi fare esattamente bello per la cam se la usi eh? ti devi fare esattamente bello per la cam se la utilizzate eh la uso si ma c'è sti cavoli la uso quando serve cioè per esempio se sono stato interrogato e poi la sta interrogando gli altri mi faccio i cazzi miei beato chiudo la fotocamera e metto a giocare all xbox non è che capito si si vabbè ma ne ho sentite dire di quote di crude certe certe partite a rocket league con amici miei se famo mentre interroga altri mostri ultimi giorni e ste ultima settimana non le famo perchè stanno proprio nei giri in cui interrogano di più perchè gli servono i voti ehm eh noi ci vediamo il trimestre non neanche il quadrimestre madonna io ho distrutto tutto ho sfondato tutto fratellino perchè tirano i trabucchi? perchè li tirano nella zona nostra i trabucchi? ma perchè? si sono ringoglioniti eh ma guarda che stanno oh via 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 devo andare via 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 infatti ti hanno massacrato lo vedo eh si vabbè mi hanno raggiunto eh baffanculo andate fate i bocchini tutti qua eh 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 ciao Teio benvenuto cecchiniamoli col cannone ce sono i nostri però e io lancio più lontano possibile vediamo che succede ma non qua ci sono i loro vediamo se riescono ad ammazzarli dai un po' sono morti vediamo se riesco troppo basso tu sei già dentro? no trovo a salire anch'io stanno facendo il culo con la cavalleria questi qua eh li vedo che sono fuori infatti ci stanno togliendo il supply point oh ciao zombie benvenuto che si dice arrivo a ombrosa eh si dice che fanno schifo qua mori troia eh che fai eh scappi? no porto due porto porto via via dietro le mie unità vai massacratevi io non c'entro nulla eh vuoi ci sono sargenti oh non vedete che stessa qua la chicca la chicchetta eh dov'è? eh sta qui eh sta qui quanto f***e se era diventata invisibile assassinetta bene eh ci provava eh ma ora sono arrivati l'amichi su agli amichi dai ammazzatele sui sti balestrieri po' vai ammazzatela così mi dà l'assist bravo persona che non conosco madò cannonata c'erano i cannoni lì no 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 ho preso almeno l'assist brutto 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 via 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 non ci sono scale burdel burdel no bello io provo a mettere un po' di scale e cerchiamo di prendere sto puntuale ma vai via proprio via mi ha buttato giù sei morto? no no fortemente no, ma si durà solo di chiudere le scale forse mi hai casco di nuovo no, ce l'ho fatto, son su vai uomini è arrivato il momento di morire per la patria scherzavano ho detto morire voi non morire io bene è morto io mi sono affacciato dalla finestra vediamo se riesco a beccarli meglio mezza salute c'hai mezza salute c'hai bastardo chi io no no a parte che non direi bastardo a te vabbè si c'è qua un tizio io so su a non mi faccio mai faccio bastardo ma lo sai che no 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 trabucco non ci sta bene la vita magari riuscisse a trovare un arco più potente ma porca miseria non io sono cascato davanti ma perché era sfigato proprio da sfigato proprio io sono cascato davanti e alla fine c'erano altri due compagni non 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 la prima volta che mi sono trovato malissimo perché ero praticamente senza punizioni sparavo a tutti ero senza cure, nulla proprio ero morto poi alla fine, la seconda volta ho capito che devo starci calmo piano piano raccimoli, sei quello, sei quell'altro non fai il cazzone, il coglione cioè devi starci calmo tipo quello che sto facendo adesso io sotto i cannoni sono morto di nuovo te sei riuscito a scappare? no che ho visto morire volevo andare dietro a quello col martello però niente eh hanno chiuso di nuovo la porta eh mi sa che la prossima ho usato il cannone dai metto il bel cannone eh ma mancano quattro minuti scarsi per per prendere ancora A uno così il Milan appareggia dici zombie che è il genere medievale che ti attrae se vuoi quando vuoi te tanto è free to play quando vuoi te lo prendi su gioco il gioco bello medievale ti consiglio anche kingdom come deliverance però non l'ho mai provato però credo sia un bel gioco io ho una serie ho fatto una serie su quel gioco lì e ci sono rimasto di merda io potrei prenderlo gratis dal game se volendo però è un po' lungo e poi è in inglese però penso che sia sottotitolato sì sì hai sub però i dialoghi già in italiano con la voce in italiano sono tutta un'altra cosa eh ma ormai sai che sono rari eh la maggior parte lo so sono trapati invece che copiati ed è brutto perché non ho capito il perché ma mi sembra che il game italiano non è proficuo quanto quello degli altri paesi quindi non ne vale la pena dicono che è molto legata alla pirateria i pirati è un'arte nobile da so chi non ha mai crackato un gioco però io per esempio non ho pokemon spade scudo crackato sull'emulatore della nintendo switch ma non lo farei mai perché ami la nintendo mi piacciono i pokemon quindi ami la nintendo e quindi vuoi che non fallisca così continuerà a produrre giochi che piacciono a te no l'ho crackato io quindi lo stai mettendo ma porca di quella non ho i soldi per la switch perché non farlo sull'emulatore no ragazzi non seguite i consigli di rayar che non ci stiamo proprio mi dissocio la pirateria è brutta ragazzi signori di tutti mi dissocio non fermo altrimenti mi blocca nel canale e addio no qui nessuno sta esticando la pirateria no anche perchè non stiamo giocando con un gioco crackato ne stiamo mettendo provare poi è gratis e neanche ci proverai gusto a crackarlo al massimo mettergli qualche trucco e giordi infiniti sarebbe carino però dubito si possa fare beh una volta avevo visto su questo gioco che avevano fatto una mod eh sui giochi online è difficile metterci i trucchi su quelli offline è meglio ma è ovvio anche perchè non c'è il controllo del check obbligatorio dei file su banner hard most ha finito la campagna ancora sto finendo la campagna con gli azeremi è durata due mesi con la fottuta campagna ho visto morire il cavallo di un tizio ho distrutto praticamente i battagnani gli ho rotto il culo male proprio vabbè ma sto gioco lì è così se appena inizia a diventare potente quello che ti resta a fare è esterminare ogni fazione pian pianino poi praticamente i miliardi che fai sono assurdi io praticamente mi sono fatto una triple kill fra bellissima io praticamente ho giocato pochissimo in questo mattino ho fatto qualcosa di mostruoso c'erano 3 che stavano abbicchiate non vi da caso arrivo io dal cavallo boom ne ho uccido uno con la caduta da cavallo quella la botta iniziale poi l'altro la matto la botta iniziale la botta iniziale si boom vabbè abbiamo 8 secondi per per la vita vabbè abbiamo perso però almeno le kill mie le ho fatte dai dai io ho provato a dargli un pugno in faccia dai che palle è b hai perso b dai io sono arrivato ultimo ho fatto 5 kill e 3 assist e 3 morti vabbè c'è sta fregati dai 3 morti 2 assist 35 kill vabbè sei arrivato a metà classifica dai c'è sta ciao 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 Grazie a tutti.